Cari amici, senz'altro ricordate l'attore canadese Jim Carrey, diventato famoso con la saga di Ace Ventura, il suo film più noto, probabilmente ancora il Truman Show. Jim Carrey da qualche tempo fa il disegnatore anche, e pare però aver perso quella leggerezza che un tempo faceva tanto ridere. Di recente ha pubblicato sul web una vignetta in cui si vedono i cadaveri di Benito Mussolini e Claretta Petacci appesi per i piedi, presumibilmente a Piazzale Loreto. La scritta che accompagna questa vigliacca, vignetta, è che cosa porta in fascismo. La nipote di Benito Mussolini, Alessandra Mussolini, gli ha risposto, you are a bastard, sei un bastardo, su Twitter. Noi non sappiamo se Jim Carrey sei un bastardo. Senz'altro ha avuto poco tatto e è andato a rivangare una delle pagine peggiori nella storia d'Italia. La folla, senza rischiare nulla perché ormai il regime era finito, si accanì sui cadaveri di Benito Mussolini e di Claretta Petacci, ne fece scempio, fino a quando non arrivarono gli alleati a Milano. Naturalmente molte delle persone che parteciparono a questa macelleria messicana, fino al giorno prima erano state in camicia nera, ben liete di essere fascisti. A questo punto non ci rimane che augurare a Jim Carrey di documentarsi e magari di tirare fuori qualcosa che faccia ridere davvero.